con il mister Raganiello allenatore dell'ischia pallavolo dunque una buona vittoria un commento sulla partita che si è appena disputata si una vittoria dove una partita dove avevo chiesto di fare bene il semplice e così è stato sono stati bravi a gestire le situazioni che andavano un po' fuori dall'ordinario rispetto alla gestione normale di una partita sono contento una prova di maturità come con le piccole sta avvenendo spesso adesso ricordiamo la partita dell'andata contro la stessa squadra abbiamo fatto 3 a 1 qui invece oggi abbiamo giocato 3 a 0 senza essere mai impenseriti dunque diciamo che il primo set è andato un poco a rilento l'ischia pallavolo ci ha messo un po' per entrare in partita forse è dovuto dall'aver preso un po' sotto gamba la gara non credo perché sotto gamba non penso anche perché i parziali pure dicono di una vittoria netta dove la squadra avversario probabilmente non l'abbiamo mai fatta entrare in gara il 15-10 poi siamo stati presi a 15 ma è stato probabilmente l'unico passaggio a vuoto della squadra oggi ma non ho molto da recriminare sono stati ordinati su molte situazioni sono contento oggi della prestazione grazie a tutti grazie a tutti